Torna la maratona di eventi e solidarietà della Fondazione Teleton per la tradizionale raccolta fondi natalizia. Iniziamo il 16 e il 17 di dicembre, cioè a fine settimana, in contemporanea con l'inizio della Maratona Nazionale di Teleton. Qui ad Arezzo abbiamo organizzato dei banchini per la raccolta fondi con la vendita dei cuori di cioccolata, che sono il cavallo di battaglia della Fondazione Teleton. I banchini saranno gestiti dagli studenti di tre istituti a retini, Fossombroni, l'ITIS e il liceo scientifico. E oltre questo, per la seconda volta, abbiamo la pedalata, la mattina del 17, che è un po' un momento, oltre che di raccolta fondi, ma anche di sensibilizzazione verso la cittadinanza di quello che è il mondo della disabilità. La collaborazione di ConfCommercio, la collaborazione delle scuole, la collaborazione che è un onore dell'amministrazione, dimostra sempre di più questa idea di un Arezzo, città sicura e coesa, che si declina in tanti modi, questo è uno, e che però dimostra come il contributo del privato, in un momento particolare, in una spesa particolare, in una capacità di lasciare una piccola somma o grande somma di denaro, per la ricerca e la dimostrazione di come pubblico e privato, come questioni personali e realtà generali vanno a spasso insieme. Infine, l'evento che chiuderà la maratona invernale di Teleton è la danza incontra la ricerca, una serata che si terrà al Teatro Petrarca il prossimo 5 gennaio. Quest'anno saranno degli ospiti importanti, conosciuti alla città di Arezzo, perché tra gli artisti c'è Nicoletta, Nicoletta Tinti, che è una retina ad hoc, e si porterà il suo progetto, il suo progetto danza, con la compagnia di balletto, è un messaggio molto forte, molto importante, che comunque si parla di disabilità, ma si parla di arte, di corpo in movimento, e bello, vi aspettiamo.